ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video diciamo che questo video è del 2023 ma lo sto registrando adesso praticamente sono i prodotti finiti del 2023 e 23 del in questo mese più o meno però volevo già registrarlo adesso così almeno lo vedete in questo mese e vi faccio vedere i prodotti con finito allora iniziamo perché sono un po tantini non tanti ma abbastanza ovviamente i prodotti che vi mostro sono cioè quello che vi dico io ad esempio può essere che a me il prodotto nome non è piaciuto invece a voi può essere che vi è piaciuto questo prodotto per cui dipende dalla persona cioè non sempre diciamo quel prodotto piace a tutti o tantomeno non sempre quel prodotto non piace voglio solo precisare questo allora andiamo veloce iniziamo da questo allora detersive di risparmio casa grandi di 4 litri di 60 tutti bocciati ne ho usato due io non li compro più mi dispiace ma sono bocciati adesso finisco il terzo che l'ammorbidente ma morbidente lavatrice e questo qui sono tutti bocciati per cui questa è l'ultima volta che li compro e non hanno non lasciano vestiti sporchi non hanno profumo l'unico profumo che hanno quando apri il tappo e si sente e basta ma se fai la lavatrice tutti i vestiti che io ho lavato erano tutti sporchi per cui bocciati non mi sono piaciuti preferisco quelli di marca o quelli più piccoli ma questi non li compro più mi dispiace durano tanto ma mi dispiace che non mi sono trovata bene fatemi sapere voi come vi siete trovati io ho trovato questo alla lavanda 4 litri e questo qua all'oceano poi altro prodotto questo che è quello per il lavare i piatti questo vabbè promosso perché è buono sia l'odore eccetera poi ricaricabile è ottimo dura di più e la prossima volta lo ricompro questo qual limone secondo me l'unico questo qual limone è più buono che gli altri però anche il forse anche il carbone sempre della nelson nel sen questo è buono e poi anche comodo perché lo puoi riempire ti dura di più almeno a me dura più più questo quello sgrassatore disinfettante al limone sì anche questo non è male è buono questo qua come il prodotto è buono per cui lo potrei ricomprare perché igienizza almeno igienizza però come profumo anche che questo è buono lascia un buon profumo che poi non dura tanto ma poi se ne va ovviamente poi freccia azzurra felce azzurra non ho capito perché freccia c'è azzurra non so perché ho sbagliato parlare questo sale marinare bagno doccia ottimo un buon profumo lascia profumo molto buono sia come profumo infatti si sente ancora ed è buono per cui direi che buono anche questo lo ricomprerei poi questo qui diciamo che questo già è buono anche se di risparmio casa stranamente l'unica cosa che forse riesco a trovarmi bene è questo sapone mani e viso che sulle mani da un buon sapore tantomeno è buono come sapore quando appunto lo metti sulle mani questo è la violetta i miei altri tre che devo consumare e durano anche di più per cui la prossima volta ne prendo altri sono così scusate per la luce ma ancora non c'è la luce proprio forte del sole l'unica diciamo stanza è questa qua che fa tanta luce per cui invece le altre sono tutte buie ma almeno questa per fortuna la cameretta c'ha tanta luce per cui se si vede poco perché ancora deve arrivare il sole comunque questo è ottimo è buono ve lo consiglio e lo ricomprerei ancora invece questo qua di ace anche questo non è male della candeggine ginizza fa quella schiumetta lì quando spruzzi molto buona anche questo non è male come prodotto è buono per questo consiglio se volete provarlo questo è ottimo della nidra questo qua ricaricabile infatti ho preso ricaricabile perché c'ho il coso questo è buono però io volevo provare gli altri perché se io uso lo stesso prodotto dopo un po non lo so mi stanco allora preferisco provarli tutti diversi e scegliere proprio il migliore questo si è ottimo ma non so se ci sono altri migliori per il momento lo sto finendo ed è molto buono questo ve lo straconsiglio questo idratante per le mani che ottimo quando ovviamente ti lavi le mani poi ovviamente queste sono l'uniche salviette struccanti che riesco a per il momento a trovarmi bene tutte le altre uno perché sono 60 e mi durano tanto ma più di un mese sarà 234 anche di più perché calcolate che io le salviette non è che ne prendo uno mi strucco la butto via no la consumo proprio del tutto c'è se fino a quando la salvietta non è sporca io non la consumo per cui queste salviette che sono 60 mi durano tanto sono tre in uno fanno tutto mi sto trovando bene ogni tanto bruciano gli occhi ma poco in confronto delle altre che avevo provato invece queste sono ottime per cui io ve le straconsiglio poi risparmio perché sono di 2 euro e qualcosa 60 ce ne sono tante direi che sono ottime maschera primark di 90 centesimi questa non è male l'unica cosa che non è che sono diciamo migliori a confronto dagli altri che tu provi tipo la stile fuori così però dato che ne ho altre ancora da finire però non sono neanche male per cui vado sempre a prenderli perché costano tanto ti idrata la diciamo la faccia cioè bella rilassata bella morbida per cui almeno quello qualcosina diciamo che comunque questo qua è molto buono invece lo shampoo questo qua della elvive questo anche questo è ottimo fa i capelli lisci e morbidi mi sembra che anche un po lucenti se non sbaglio un po luci se vai poi la luce ancora di più di molto come shampoo è ottimo per cui se volete provarlo volete prenderlo questo ve lo consiglio perché buono poi questo qui dimenticato tappo questo l'ho preso dai cinesi castelli si castelli cristalli liquidi questo qui al cocco non si sente tanto il cocco però è buono metti nei capelli belli morbidi non è molto top molto bello poi te li lascia belli lucenti e della splendor buono anche la marca non è male e poi facile perché tu lo spruzzi schiacci lo spruzzi lo metti sopra mi è durato anche questo un po un po di più nel 2023 però è buono anche questo diciamo che volevo cambiare per cui questo è la prima volta che l'ho comprato ma voglio provarne altri non sto sempre sull'altro o sempre su quello poi questo qua dalla sun silk quello un minuto trattamento intensivo con capelli secchi nutriti e nutrienti che non appesantisce al cocco e olio e molto bello molto bello c'è molto buono anche questo non credo dure buonissimo perché si sente il cocco ormai della sun silk io mi trovo bene anche come marchio perché buono per questo volete provarlo volete prenderlo prendete anche questo perché diciamo è molto non è male direi promosso allora questo invece della garnier ultra dolce anche questo buono come shampoo io preferisco lo shampoo perché balsamo si sono buoni ma non lo so sono troppo leggeri e allora durano di più forse lo shampoo che balsamo secondo me sulla quando li ave i capelli per cui comunque anche questo al carbone ottimo ma comunque ultra dolce anche la marca è sempre buono per cui ve le consiglio queste marche qua che io provo ormai ogni tanto li compro quando sono urgente che ho finito lo shampoo li prendo subito so che quelle sono buone marche allora me li metto sono appunto lisci morbidi i capelli c'è proprio adesso me li sono lavati con il shampoo sun silk i capelli ovviamente sono morbidi non sono pesanti sono bel e lisci e a me piace quello così poi mascara della questo contro mi ricordo sera all'oreal pariso ok mi ricordavo allora questo è il proizzo l sono due in poche parole uno è questo che adesso non si riuscirà mai a aprire appunto sono riuscita il due è fatto così lo scovolino mi sono trovata veramente bene mi è durato anche di più per cui la prossima volta, lo ricompro ancora, l'ho preso su Amazon, invece questo qua è duro, ok, sono riuscito, e ha lo scovolino così, dritto, uno è storto e uno è dritto, uno in due, due scovolini, ti durano tanto, sono ottimi, vi consiglio questo, adesso ho un po' seccato perché da un bel po' che ce l'ho appunto nel sacchetto, e comunque ve lo straconsiglio, perché questo rosso mi è piaciuto di più, quello bianco diciamo che non è che mi piace, cioè lo sto usando ma non è che mi piace molto, preferisco questo qua rosso, per cui la prossima volta lo compro ancora, mi sembra 10-11 euro ma ne vale la pena perché hai due scovolini, sono praticamente due mascara e ti durano di più, almeno a me è durato di più, per cui ve lo consiglio, non so perché a me va via pure la voce, l'ultimo prodotto questo qua, che in teoria è questo della Thailandia, non so perché qua, doveva essere i prodotti della Thailandia, che poi vi farò vedere, quelli finiti, niente, questo prodotto della Thailandia, il migliore in assoluto per i puntini, infatti io lo devo cercare su Amazon ma mi sembra che non c'è, ho provato a cercare ma non lo trovo, per cui devo in qualche modo riprenderlo perché è buonissimo, cioè è ottimo come prodotto, o vado in Thailandia e me ne prendo tanti che costano di meno, ma questo ti aiuta veramente con i puntini, ti vanno via i puntini, quindi c'è proprio un naturale al 100%, non lo so, se per caso voi lo trovate, riuscite a trovarlo eccetera, fatemelo sapere che così a me non lo ricompro perché non lo trovo da nessuna parte, questo è utile e mi aiuta tanto, quando c'ho tanti puntini infatti in faccia, io non ce li ho quasi mai perché grazie a quella crema è la vita, cioè proprio è l'unica crema in cui mi sono trovata bene, ma anche quelle che ho comprato in Thailandia sono stra-ottimi, e niente, i prodotti ovviamente erano un po', non erano pochi ma erano un po', spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi avete usato questi prodotti, come vi siete trovati, oppure qualche consiglio di qualche prodotto che posso provare, che sono ottimi, o non so, di tutto ovviamente, e niente, io vi ricordo comunque di iscrivervi al mio Instagram, ne ho due, per cui due Instagram, semmai vi lascio qua il primo e il secondo, e poi di iscrivervi al secondo canale, quello nuovo, che ancora dobbiamo aggiungere di livello almeno a mille iscritti, piano piano, e poi niente, credo che ho detto tutto, detto questo ci vediamo al prossimo video, Ciao!